e riprendiamo da dove ci eravamo lasciati ci eravamo lasciati che mo vediamo perchè da un bel po' in realtà che non lo giochiamo quindi un attimino che facciamo un recappino mercato murato, celebre quartiere dei piaceri che attira ogni sera a Midgar, molti visitatori nonostante i loschi individui che lo animano il muro invalicabile che lo cinge sui quattro lati delimita infatti una zona in cui la scina non ha potere e dove spadroneggia il famigerato Don Corneo ok, o Don Corneo non saprei ma è un tipo cattivo Desperados ragazzi lo rigiochiamo probabilmente se domani ci facciamo una live extra magari ce lo facciamo domani, ci facciamo qualche altra missione e poi è anche lì una toccatina e via ah è vero eravamo qui nell'arena nell'arena ok, allora come detto recappino perchè da tanto che non lo giochiamo stiamo facendo che missione neanche ce la fa vedere ma molto bene dobbiamo andare sangue e arena arena di corneo è vero dovevamo parlare con il boss e quindi per parlare ok, ok la categoria ci avete pure ragione la categoria ormai la dimentico sempre meno male che mi ricordate voi aggiorniamo ok dovrebbe essere fatta e va bene allora andiamo a parlare con il tipo abbiate pazienza se adesso farò un po' di danni perchè come detto non ci giochiamo veramente da tanto non ci giochiamo da tanto quindi mi devo ricordare un attimino anche i tasti devo dire final fantasy io onestamente si lo consiglio perchè io da non amante onestamente dei final fantasy lo sto apprezzando tanto eh avevano detto che c'erano un po' di combattimenti da fare per quello che avevamo schippato tra virgolette guarda come ci deridono eh incazzati incazzati che mo gli spaccami i denti eh ok eh un pochino si allora il primo turno abbiamo il domatore e le belve allora il domatore già c'è sta piana manicata dei botte e fino a qua ci siamo madonna pure la belva ci ha preso vabbè questo è il primo turno quindi immagino che sia abbastanza easy quindi senza sfruttare troppo i nostri bonus no ho sbagliato appunto avevamo cambiato spada tra l'altro avevamo cambiato spada o sbaglio sì questa è la nuova spada momento perchè mi devo ricordare quello che era quello che era il non si può vedere come cazzo si vedeva scusa no mi sa che adesso non ce lo fa vedere la personalizzazione non si può fare volevo vedere il bonus da sbloccare con questa spada come si faceva perchè non me lo ricordavo grazie Joe grazie per i 17 mesi come mi gioca una brush Joe grazie Joe grazie mille eh vabbè noi le usiamo solo per sbloccare i bonus onestamente oddio che mi ha detto ah devo uscire ok aspetta aspetta grazie grazie ci fa pure l'applauso è dubbioso claudo allora penso che possiamo rientrare direttamente però come detto fatemi vedere un attimo questa spada la dissettrice allora spera un attacco che può infliggere morte istantanee e danni maggiori se il nemico è stremato consuma tb2 bonus materia colpisce un nemico stremato ora il nemico lì che c'era per terra era stremato noi l'abbiamo colpito però non è salito per niente la maestria o sbaglio vabbè possiamo dobbiamo aspettare pure ma posso aspettare vediamo se mi siedo qua aspetta stanno a chiamare tra poco tocca a noi vabbè andiamo subito andiamo subito tanto non dobbiamo neanche riposarci perché tutto sommato abbiamo fatto quello che dovevamo fare ma che fortuna a parte quel catenaccio deve stare proprio zitto per dire però no in realtà l'avevo preordinata la collector's edition l'avevo preordinata mesi e mesi fa ma non sapevo se effettivamente sarebbe arrivata lo stesso perché a volte le preordini ma non arrivano se sa mai però l'avevo preordinata si no se no era introvabile già preordinandola non sapevo se arrivava guarda questi che ci offendono questi sono giustamente come dicevate tizio e coso perché ci sta noi la banda dei coatti già li abbiamo pestati a parte noi ma non è un problema potevano essere pure 32 è uguale vai vai biondo è quello corneo non lo so però non ti preoccupare erit c'è mezza claudo si sono più chiacchiere che combattimento però quindi con sta spada ne abbiamo 18 con un colpo solo quindi pochi problemi questo è fermo sta prendendo le sciabolate sulle gengive che è allora sta spadina aia madonna erit li ha fulminati ma mi ha fulminato pure a me scusa erit che c'è che c'è guarda che sciabolata morbida ole quella si sta pulendo la gonna va bene molto sportiveggianti no erit si a parte le cure non boh non lo so mi manca un po' baretto col col suo mitra quella ha già fatto un massaggio alle mani le mani no perché se no vuoi grazie English grazie per i cinque mesi di resab buonasera buonasera mi è diventato obbligo rinnovare l'abbonamento grazie mille grazie mille attenzione in finale grande vabbè vabbè non è che per il momento allora in questo caso magari una piccola pausetta la facciamo giusto per recuperare un po' di salute tanto ci devono chiamare quindi aspettiamo un po' così e vediamo eeeh recupero ok ma ma i fiori c'erano già ci li hanno portati per noi che siamo dei pro grazie a scarlett poro per i 20 mesi rinnovare sempre un piacere un bacione alle bimbe grazie scarlett poro grazie per i 20 mesi grazie mille grazie mille eccoci caro siamo pronti hai visto ma vi state a convince guarda qui certo vai butta butta giù la finale ah mo ha scommesso pure su di noi che paraculi però che paraculi veramente non hanno ritegno con quale fomento tra l'altro grazie Gianni grazie a Gianni Mornati per i 9 mesi grazie mille Gianni ottimo ottimo grazie grazie mille eccoci Claudio è un po' preoccupato ma non si sa perché perché effettivamente fino adesso sono cavate i greggiamenti eh addirittura vabbè i nomi sono onesti allora questi già li abbiamo incontrati magari non così da torneo forse allora qui dobbiamo usare i fulmine diciamo allora subito schivata qua dobbiamo lavorare un po' più sulle ecco sulle schivate perché è un po' più complicato diciamo allora cerchiamo di accumulare entrambi mi sa che Erit non ce l'aveva i bonus allora magie ignis fulgor andiamo con fulgor disco sinistro e fai disco sinistro dove va ma che fa ma lo sposta no sull'altro che la tensione è abbastanza alta la aumento così direttamente estremo vai con abilità colpo audace o finale confliggere morte istantane e danni maggiori se il nemico è stremato proviamo sul trituratore madonna mia grandi danni li ha fatto quello è un bel colpo questo già l'abbiamo eliminato l'abbiamo eliminato si ok aspetta che questo non ho capito se vabbè già morto pure questo ma è una barbonata no oddio vabbè chissà che pensavo signori ma non urlate così dove siete vabbè tanto il milione di soldi se l'è preso questa perché poi andrà a rendere presentabile erit per poi andare insomma è tutto per trovare tifala questo è quello della moneta truccata ecco appunto no no ma alla fine si siamo in easy ma va bene così effettivamente non è più scorrevole attenzione un incontro aggiuntivo si tanto noi di quei soldi non vediamo niente e qua ci sarà la fregatura quelle gente psicopatica e niente anche bippato tutto molto bene non oso pensare cosa abbia detto se l'hanno bippata guarda qua attenzione ma questo è per noi è la verità prima non c'erano i fiori là dentro non si capiva ma quelli sicuramente non c'erano vai vai potevamo anche riposarci ma noi sprezzanti del pericolo siamo pronti buttati lì sprezzanti del pericolo anche perchè salute non è che ne avevamo persa tanta cioè in realtà mi sa che non ne avevamo persa quasi per niente forse però conveniva salvare mi sa non c'erano mi sa Eh, ora si fomenta il pubblico Guarda, siete veramente delle bandierine Vergogna Quelli che prima ci sputavano addosso Praticamente Addirittura una casa Infernale Effettivamente è una casa Tutto sommato anche discretamente carina Se vogliamo Ci sarà l'inghippo E qua ci vuole un bulldozer Allora prima di tutto dobbiamo cercare Allora, a parte che c'è lanciabombe Immagino che non... Ah, è ridotto quindi... Ok, però dobbiamo almeno accumulare per studiarla Ma immagino che con questa ci voglia il ghiaccio Perché lancia cose del fuoco Ma donna mia Ehm, abilità colpotacee Analisi Ok, vulnerabile al ghiaccio Noi non abbiamo niente di ghiaccio Mentre Erith sì Ma io non vorrei cambiare ad Erith Allora, a parte che Erith in realtà continua ad attaccarlo Comunque sempre con il ghiaccio Perché gliel'avevamo messa come combo Mi sa la... Come ci paravamo noi? Ah, così Allora, io potrei comunque provare E continuare Dove sta la casa? Vedete, lei continua ad attaccare comunque Automaticamente in modalità ghiacciolo Grande così Ehm Proviamo questo Anche se ho paura che scappi Lo sapevo Dove cazzo sta? Allora, aspetta che se mi paro Ci toglie un pochino Però nel frattempo recuperiamo bonus per l'attacco In linea teorica In linea molto teorica Dove sta? Allora, subito No, subito niente Non c'ho i bonus Aia Allora, ci sta facendo discretamente male Non so se anche lui Con lui la Lesione estremante Possa funzionare Neanche lontanamente Allora, secondo me Questo ci vuole Tipo un'ora Un'ora e mezza Fa sta cosa Colpo audace Perché Quell'altro è troppo lento Questo Ma gli ha fatto qualche danno O non l'ho capito io Ah no, si sta curando Credo Che però io Non posso fermare Se si cura Credo Scusa Cosa lo sta curando? Perché se è una cosa esterna Posso Fare qualcosa Altrimenti no No, la magia poi vediamo Perché a livello di magia Non ho niente Potrei usare Fulgor Al massimo Forse adesso Fulgor Potrebbe andare Visto che è meccanica Per quanto Oh merda Do sto Dove Dove è Claudio Allora Aspetta che siamo Comunque Gli abbiamo fatto Però più male Gli abbiamo fatto Più male Possiamo andare Con Fulgor Anche Fulgora Che fa Ok In realtà Fulgora Dovevamo usarla Insieme In combo Con La Tipa Andiamo con Erith Perché Erith Ricordiamoci Che ha Come attacchi Crio Che è quella Vabbè Giusta E abilità Cerchio Benedetto Crea una zona In cui Un'immagia Offensiva Viene lanciata Automaticamente Due volte Quindi Questa È assolutamente Utile Al momento Per Andare Su Claudio No Ce la lanciamo Su di noi Perché lei Ha quella Di ghiaccio Quindi facciamo Subito Così Magia Crio La lanciamo Doppia E non gli fa Una benemata Sega Perché immagino Penso sì Che adesso Abbia cambiato Proprio Tipologia Sì Infatti Li stiamo Facendo Malissimo Vai che è stremato Vai che è stremato O stremata È una casa Abilità Limite Sì Colpo Incrociato Mi ha fatto un cazzo Niente Però Eh ma Si sta Proteggendo Quindi Onestamente Non so se Si toglie Da sola Questa Barriera O se Devo comunque Andare a rompergli Le palle Madonna mia Controlliamo Ogni tanto La salute Perché Claudio Non sta Benissimo Il nostro Cloud Allora Dammi Erit Erit Fermati un po' Abilità Magie Rianima Un alleato Eh no Mi sa che non ce l'ho più Quelle per curare Crea una zona in cui Una magia offensiva Viene lanciata Automaticamente Due volte Assorbe PM dal nemico Effetto potenziato Se il nemico è stremato No niente Però puoi invocare Invoca va Preghiera cura Non so se ce l'ho Aspetta Aviamo Claudio Aia Mortacci Tua Allora Aspetta Abilità Invocazione Quello aveva Tocco Il blocco Di ghiaccio Nel nemico Fattore Estremamente Elevato Attacca Leggeri I nemici Circostanti Fattore Oppure 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 Restituisce Una quantità Ridotta Di Punti Vita Guarda Uso Questo Su Di noi Oggi Una quantità Ridotta E quell'altro Praticamente Ci ha ridata Tutta Va bene Aspettiamo Un pochino Merda Merda Ma ci ha risucchiato In modo abnorme Controlliamo la vitalità Posso attaccarlo Ok Vabbè Tutto sommato Non è andata Non è andata Ma le pensavo Peggio Aspetta Ok Merda Allora Magia Adesso direi Di usare Fulgora Grande Li ha fatto Malissimo Adesso Ma così Proprio Non gli faccio Niente No No Si sta Riprendendo Allora Aspetta Scusa Posso riutilizzare Un'altra volta Posizione estremante Non può Una sega E qua Niente Separata Aspetta che questa fa L'ultimo attacco Finale E poi Se ne va Onesto Onesto Non abbastanza Adesso Allora Davanti Non gli facciamo Niente Comunque Ma neanche di lato Dobbiamo aspettare Che tolga Sto baracchino No E vedi Che tu Io provo Ad attaccare Dall'interno Non so Se li faccia Male Penso Di no Perché sto bastardo Sta recuperando Eh vabbè Scendi giù Guarda sto bastardo Ma scusa Sta cosa Non si scassa più Che cazzo Cioè c'è Questa barriera È infinita Io non sto leggendo Se mi sta dando Dei consigli Il gioco Allora Aspetta Che qua Mo facciamo Una cosa Tecnico Tattica Li manca poco Per essere Stonata Eh vaffanculo Va Usa lo stesso Fulgor Sti cazzi Non funziona Vabbè Sì ma Non ci possiamo Stare un'ora e mezza Con sta barriera Del cazzo Eh Eh Rotti Coglioni Usa di nuovo Fulgor E niente Fulgor Non mi fa niente Molto bene Attenzione Perché Claudio È morto Praticamente Se riesco A fare così E andarmene Un attimo Uso Magia Energia Sul Claudio Madonna A culo Prima che Mi seccasse male Cerco di attaccarlo Anche semplicemente Per recuperare Mo Mi sa che ha rimesso il fuoco Mi manca pure poco A quel bastardo Facciamo così Scusa Va bene Resti c'è la quantità Moderali più vuoi A tutta la squadra Sdividete In segmenti Che ne parecchino No Ma io non so Se questo funzioni Adesso No Poco Poco Molto bene Mi fa un cazzo Però Colpo incrociato Eh ma ci sto provando Ma non è Non è facile Perché vedi Che comunque Allora Aspetta un attimo Che curo Erit Curata Ok Mi manca Mi manca pochino Mi manca pochino Ma ho finito Epm E potrei Recuperarli Effettivamente Utilizzando Ok Ok E vabbè Proviamo Niente Non proviamo Niente Aspettiamo E approfittiamo Adesso Signori Eh però Cazzo Togliti da qua Becker Braccio Un pochino Guarda come le togli Le braccia Su bastardo Allora Adesso Eh però Cioè Nonostante tutto Non riusciamo A A stonarlo Sto bastardo Stacca Ier Braccino Eh vabbè Tu madre Non ce la metti Allora Ma questo Fino a un certo Punto Eh Ok Ok L'abbiamo Quasi Stremato Ma È il quasi Che ce frega Grazie a Ryuzenka Per il Diciottesimo Mese Grazie mille Ryuzenka Grazie per i Diciottomesi Di res Sub E Torniamo la salute Perché gli manca Veramente Poco Poco Niente Fulgor Può funzionare Adesso So che Ma a sto punto Ci siamo Grazie anche A Io sono Il noce Per il secondo mese Grazie mille Il noce Grazie per L'arr Sub Grazie Ok Qua l'abbiamo Elimina Niente Mi facciamo Un cazzo In ogni modo Vabbè Oh Prima o poi Ma che cazzo È Questa Non è che Abbia capito Più di tanto Questa Cosa Oh Vai con lo stremo Mo Figgio danni Gelo ridotti Rinascia Allora Abilità limite Oh Vai mo Di finezza Allora Qua gli avevamo Fatto un bel Danno Veramente un bel Danno Però Qua sediamo Eh Qua sediamo Poi mi devo Curare Ma Allora Prima di tutto Dovrei Utilizzare No Tutto Non lo userei Perché Ce la facciamo A curarci Così Porca Troia Aridaglielo E' veramente Una Rottura Di maroni Questa casa Ve lo dico E' una Rottura Di Falpebre Anche Anche perché Le braccia Vedi come Te le ritoglie Sto maledetto Grazie Ryuzenka Grazie per l'euro Eh no Prima No In realtà Fulgor No Che cazzo Ho fatto Sputato Adesso Possiamo E' vulnerabile A All'elettricity Allora Allora Sì Mi è molto teorica Vabbè Ah no Devo recuperare Cazzo Eh devo aspettare Un attimo Per poter Utilizzare Di nuovo La cura Anche se Adesso C'è un po' Difficolté Ma Scusate Dammi un attimo Erit Va Che magari Abilità Al limite Restituisce Quanto Tutta la squadra Anche questo Ci sta Ok Almeno Nel mentre Ci curiamo Un pochino Berit Tu continua A mandare Pallettoni Che comunque Nel dubbio Tutto fa Bro Eh andale Andale Aia In fronte Ma io credo Che magari Con Fulgor Lo curiamo Quando Torna Incendiato Dobbiamo Andare a controllare Space Vulnerabile Alterazione Figa Vedi Dobbiamo Stare Aspicciando Ogni 3x2 Via il Braccetto Via il Braccetto Dai E' così Allora Aspetta No Fammi vedere Se No E' vulnerabile Al fuoco Quindi Dammi lui Eh bisogna Controllarlo Ogni 3x2 E' quello Il problema Tecnico Tattico Stava parato Un pochino Di danno Io l'abbiamo Comunque Fatto Riesco A prendere Il Braccino Ogni Tanto Eccolo La Niente Tiravolo Il Braccino Niente Braccino Ok Aspetta Adesso E' Vulnerabile A questo Vabbè Quando fa Così Non puoi Fa niente Sì Probabilmente Ci faremo Solo La Casa Adesso Andiamo A rivedere Non Niente Vabbè Una Più c'altro E' una Rottura Di Palpebre Al Vento Che Non Ho Niente Fammi Rivedere Prendere Il Braccino Please Allora Adesso Ricontrolla Al Ghiaccio Quindi Vai Con Lei Vai Con La Magia Crio Vai Crio Ora Casa Infernale Tacco Punta E' Piata Direi di no Perché E' andata Da st'altro Lato Mo' Lo puoi Usare Forse Veloce Però Ok Era vulnerabile Gli abbiamo Fatto Un bel Danno Ora Proviamo Ci ha avuto Culo A Mettersi La parata Proprio Nella Momento In cui Stavamo Per Attaccare Va bene Manca Uno Sputino In realtà Merda Ah ma Le sedie Sono Ho capito Adesso Aspetta che Sta morendo Erit Appena Riesco A fermarmi Ok Da sto Fio De Casa Maiala Allora Adesso E' vulnerabile A questo Quindi Vai Di Di Sta Sceppa Che poi Scusa Non gli manca Praticamente Niente Eh Che cos'è Olè Giustizia è fatta Ci abbiamo messo Un po' di tempo Un po' tanto Tempo Si è mai vista Casa così Resistente Grazie Iceman Grazie per il Primo mese Benvenuto 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 Ad Iceman Daie Benvenuto Tra gli sportivi Gioanti Grazie mille Anche a Metal Master Per il sesto mese Grazie per il Mezzo anno Metal Master Grazie mille Ok Ce l'abbiamo fatta Con quale sacrificio No direi basta Basta Saluto Un saluto Un saluto a chi Tra poco Ci salutiamo Anche noi Come detto Non facciamo tardissimo Nell'arena Di Corne Ogni sera Si svolgono Spaventose sfide Quando vuoi metterti Alla prova Nei combattimenti Vai nei sotterranei E chiedi All'assistente All'ingresso Nell'arena È vietato Usare oggetti Durante le sfide E furto È inefficace Ma ogni incontro Viene concesso Un modesto Recupero di pv e pm Ah ok Vabbè A noi al momento Non ci interessa Perché Per oggi Direi che può bastare Vabbè Andiamo a vedere Se Riusciamo a terminare Ah ci stanno a fare Il festeggiamento Grazie cari Gentilissimi E questo è quanto Grazie mille A Super Daniel Per i quattro mesi Grazie mille Daniel Grazie per i quattro mesi Di sportive giuanza E Se non ci perdiamo Andiamo Di qua a destra Se non ci vogliamo perdere Dove si va qua Yes Aspetta Scusa Facciamo Magari Se prepara Il vestito A questa Insomma E poi Cioè se saluta Lo vediamo Sì come sempre Riporto sul canale Le live Yes yes Sul secondo Sì ma Già c'ha avuto un milione Mi piace Deve fare pure altre missioni Aspetta Che voi sappiate È una cosa lunga Questa Nel senso Possiamo subito Poi interrompere Nel senso Una decina di minuti O è una cosa Molto Che va Per Per la deriva Ehm Mentre la prepara Ti fa fare missioni Secondarie Ehm Vabbè Facciamo una cosa Facciamo questo Cioè intanto Diciamo Vediamo Tutte missioni Madonna Oh no Seccacco No Cioè Sono Fino Che Tocopoli Ma Tui De Tocopoli Tocopoli Sì Sì Ehm 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 Bene Gli ha detto Che non c'è So Praticamente Arrivederci Allora Ehm Va bene Fuori squadra Attesa solitaria Allora Ehm Ehm Vabbè Andiamo Per dove dobbiamo andare Ehm Vabbè Ci facciamo ancora un pochino Nel senso No L'importante è che Magari Che non partisse Una cazzi In infinita Però se Se sono cose Da fare Quella Se fa Se fa Salve Ehm Grazie per te. si si c'è ancora lo scondo per gli occhiali drato mi sono scordato di mettermeli che prima sono state a chiacchierare o non si ancora fu non si ancora sì allora allora abbiamo un paio di missions questa è molto lunga la lunga notte perché tutti quei pallini sono i vari passaggi della missione questa dovrebbe essere abbastanza breve quindi facciamoci questa parla con jinan nella palestra è un lui o un lei usate vabbè comunque andiamo prima qua che dovrebbe essere non la lunga notte era proprio l'altra che me dovevi segnare che dovrebbe essere più breve un paio di di punti da come dice salve no vabbè un lui ok più credo apparentemente apparentemente c'è il punto interrogativo nel senso gli consigli sono rimanere un sistema del non troppo sicuro ma io adesso e io adesso ciò ciò è chiaramente non mi si può fare prima diendersi Eh no vabbè Sì dobbiamo fare la missione Principiante Esperto e professionista Proviamo Va bene Allora premi Contempismo per fare più piegamenti Dell'avversario perché in caso di pareggio La vittoria sarà sua Dopo qualche sequenza l'aiuto visivo scomparirà Dovrai fare attenzione a mantenere il ritmo Come scomparirà l'aiuto visivo Eh no aspetta fammi vedere come si muove Così cerco di capire dove devo cliccare Al No non lo capirò mai Vabbè Vabbè penso c'è una cosa del ritmo Che ne so Orco 2 A forza Per vedere quello ho sbagliato pure io Ma perché a lui gliene conta di più Se ne fa di meno Scusa Sto andando molto a caso Ve lo dico Ha estinto Senza vederlo è molto randomica Signori Vai che l'abbiamo stracciato Devastante Devastante Olè Va bene abbiamo fatto il doppio di quello E quindi molto sportiveggiano Sì vabbè era un esercizio di merda comunque Per dire Grazie Jobs Per il terzo mese Grazie Jobs Grazie mille per la tripletta Con il gioco di prepotenza Della sinistra Ok abbiamo vinto quella per principianti Ok Ora puoi affrontare le gare per esperti Guarda io nel dubbio Le altre missioni ancora non ce le sblocca Proviamo Già che siamo qua Vediamo se ci sblocca qualcos'altro Ok quindi parlo con loro Salve Sì aumentiamo Penso che aumenta in automatico Una volta che hai fatto quella Passa alla prossima Proviamo eh Arca troia Perché qua poi per farla più fluida Dovresti essere più veloce a cliccare Però Forse è meglio aspettare un pochino Farla meno fluida Ma essere sicuro di non sbagliare A sto punto Anche senza guardare Signori tanto è uguale Tutto a memoria E a istinto Tecnico-tattico Anche ad occhi chiuse Andiamo No non è da sapere i tasti I tasti sono quelli E che a memoria Dovresti aumentare la velocità Mentalmente Nel mentre continuare Perché i tasti sono quelli Nel senso Le ho fatti 21 Le abbiamo spaccato il culo Per dire Però vedete che andava un po' a scatti Perché tu in teoria Dovresti sempre aumentare Ma aumentando rischi di sbagliare Se mantieni il ritmo Magari va un po' più scattoso Nei movimenti Però Li fai E non ci ha sbloccato niente Quindi abbiamo fatto di nuovo Quella per principianti Apparentemente Quindi questo sarà Quello intermedio E quest'altro Ok Vabbè Niente Sì sì vai Come on Come on Eh sì E questo è per esperti Niente Ho sbagliato Scusate Avevamo rifatto quello Questo è più pro Quindi attenzione Secondo me Più seguiamo I tasti Siamo andati meglio Quando non vedevamo I tasti Ah Mo ce l'ha tolti subito Non dobbiamo sbagliare Perché quello va forte Aspetta che Perché l'ho dovuto cliccare Più volte Non l'ho capita E che cazzo Per poco Maledizione Vai vai Che c'è sta recupera E niente Ci ha fregato O sbaglia O ci ha fottuto Dovevamo sbagliare Là Se sbaglia lui Ok Ma come è arrivato A 20 Ma non è vero Eh vabbè signori Eh ci ha fregato Ci ha fregato Ci ha fregato Però secondo me si può fare Perché poi stavamo recuperando Si può fare Questi due errori li fa Se noi ne evitiamo di farne uno E poi dobbiamo andare un po' più veloci Però Secondo me si può fare Magari quello esperto Del tipo no Sicuramente Questo però Se Se non facciamo stronzate Però non è facile Dobbiamo essere costanti Signori Anche se andiamo un po' più A scatto Guarda come recupera Quello stronzo Fanculo Bastardo Dai eh Dai mo Vai così Dobbiamo spawnare Il record Eh però Quello recupera La grande Fa forte Grande così Grande così Eh ma l'ultimo Secondo me Non ce la faccia Ci possiamo provare Però non ce la facciamo L'ultimo arriverà Secondo me Al minimo A 45 Poi devi andare Molto più veloce Secondo me No Prova Proviamo Ma secondo me Questo Cede Basta Proviamo Questo è per professionisti Fermi tutti Cazzo Cazzo Comunque va Molto più veloce Di noi A parte che A lui Gli ne contati Più Però Non vorrei Dire niente Cazzo 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 Qui Cazzo 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 attenzione dai è così vai di squat è muto è muto o le giustizia è fatta tac hai visto al primo colpo troppa sportiveggianza abbiamo fatto anche attività fisica stasera anche palestra vabbè ci ha dato la cintura o basta andiamo a vedere che è sta cintura mamma mia tutto sto casino per una cintura che allora noi al momento abbiamo la polsiera potente la cintura master ci dà più punti vita aumenta il 10% i punti vita massimi aumenta il 5% la forza però rispetto scusa polsiera potente è quella che abbiamo detto no lo conviene e tanto questa non serve a niente cioè no che non serve a niente questa che abbiamo però meglio la cintura sì ma si vede no sarebbe stata una finezza sarebbe stata una finezza va bene ragazzuoli allora facciamo una cosa siccome siccome questa missione la lunga notte è fatta di tutti quei tutte quelle tacchette che vediamo lì quindi è una missione abbastanza lunghetta converrebbe farla alla prossima direi di sì nel mentre andiamo a salvare la partita quindi 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 poi ve lo riporterò come sempre sul secondo canale insieme naturalmente anche agli altri titoli che vi devo ancora riportare alcune cose della maratoncina desperados vi riporto domani cerco di riportarvelo domani e naturalmente vi invito anche a seguire sul primo canale The Last of Us 2 che abbiamo iniziato l'unboxing e i primi due episodi oggi domani ne arriveranno altri più che riesco a portarne vediamo e per il resto se riesco magari domani extra se ci riusciamo a fare un'oretta di live su qualcosa vi faccio sapere su instagram e come sempre ragazzi grazie mille a tutti per aver seguito la live ci si becca come detto se riusciamo domani vi avviso sempre su instagram prossima maratoncina penso a luglio dai a luglio penso che ce ne facciamo un'altra grazie mille ragazzi buonanotte a tutti e grazie mille a Ruffietto per i 3 euro di donation grazie mille Ruffietto grazie di cuore buonanotte cari ciao ciao buonanotte